Al Comunale di Carristrello oggi è di scena la vicecapolista che cerca contro i Granata i punti per spaventare il Giulianova. Il match si annuncia di livello anche se il tatticismo soffoca il gioco per buoni 25 minuti durante i quali non succede niente. Alla prima sortita però ci scappa subito il gol ospite. 26esimo, crossa al bacio per la testa di Mastroianni che con il contagiri pesca l'angoletto alla destra di Di Girolamo. San Buceto Cinico, capistrello reattivo vicinissimo al pari dopo pochi secondi quando un 1-2 fra De Meis e Mercogliano libera quest'ultimo al piattone a lato di pochissimo. Ancora capistrello alla mezz'ora quando Edoardo De Meis realizza su sponda viziata da fallo di Leccese e colta dal direttore di gara che annulla. Recriminazioni Granata che ci accompagnano al quarantesimo quando un cross di amore viene spizzato a lato da Leccese. Passiamo quindi alla ripresa che si apre con un tiro ad uscire di La Selva che termina a lato. Eravamo al terzo, poi al decimo arrivano ulteriori rimpianti marsicani con Bolzan che pennella direttamente da Tirofranco e pizzica la traversa sugli sviluppi. Testa salva su Leccese. Si prosegue comunque su ritmi blandi sino al venticinquesimo quando Beniamino taglia per il neo entrato Antonacci neutralizzato da Di Girolamo. Nei restanti 24 minuti il nulla. Un bene solo per i viola. Fabio Iodice, a voi complimenti a loro i punti. La partita l'abbiamo vista tutti. San Buceto, secondo in classica, viene qua si è difesa per 95 minuti. Non ha fatto mezzo tiro in porta. Alla fine però ha vinto 1-0. Quello che conta è chi vince. Su una palla, su un cross abbiamo perso la partita. Proviamo a cercare qualche colpa del Cavistello. Prima del 27-28 minuto del primo tempo non c'è stata traccia dei Granati. No, ma è una partita equilibrata. Sappiamo che San Buceto è una squadra forte, quindi il miglior difeso del campionato non è per caso. Però se poi andiamo a vedere, noi non abbiamo fatto niente fino al 27esimo, ma neanche loro non hanno mai superato la metà al campo. Credo che poi la partita l'abbiamo fatta noi per 95 minuti. Ripeto, su un cross abbiamo ripreso l'ennesimo gol. Purtroppo è il momento. Non so più che dire. Sicuramente la colpa sarà mia, per carità. Però, ripeto, San Buceto è venuto qua, ha vinto la partita, onore a San Buceto. Però, secondo me, non era una partita che meritavamo la sconfitta. Mister Tato mi roma una vittoria pesante. Sì, contro una squadra molto importante, quindi sono contento. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno disputato una grande partita. Vorrei anche ringraziare il nostro, in questo momento, il nostro magazziniere Factotum, la persona che ci sta vicino insieme a tutta la società, perché noi mercoledì abbiamo subito un'alluvione. Da mercoledì che non riusciamo ad allenarci, abbiamo subito una situazione di grande disagio. E quindi questa è una risposta dei ragazzi molto importante ai quali faccio i complimenti. Che match è stato? Match equilibrato, difficile, contro una squadra molto importante, ben allenata. Sapevamo che dovevamo sudare le cosiddette sette camicie. Credo che l'abbiamo fatto con molto ordine. Abbiamo, secondo me, disputato la partita che dovevamo fare. E quindi siamo contenti. Grazie. 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 Grazie.